Bella raga, eccomi tornati su Fall Guys Allora, dai Ok, sta mappa è easy Dai, facciamo il glitch del salto Se ce la faccio No, no, eh, no, 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 no Questa partita è iniziata male Oddio Ok, grazie Ok No, 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 ok Sali, 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 ok Ok No, ok Qua mi sembra tutta a sinistra E vai Tipo qui, va bene Ok, sì Infatti Dai, 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 dai Ok Ok, easy Easy E gli amici No, tutto non concludi, vieni qui il bassardo Vieni qui No, 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 vieni qui O è là No, tu vieni qui Oh, no, vieni qui Oh, no, vieni qui È concluso, no Vediamo Vediamo Comunque Mo' hanno modificato Mo' ha 43 Prima 31 si classificava la prima partita Cioè il primo round Che non so se è meglio o peggio Perché dipende Cioè Eh, dipende Dipende Vediamo adesso Che esce Oddio, cos'è No, è tutto colorato Un barattolo Un barattolo Un barattolo Un barattolo 43 Vediamo cosa ci esce Vediamo Ok Ok Veniamo Che è uscito Ah, sì, 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 sì Vabbè Più easy di qui Allora Se stai Nella prima fila Easy Easy Nella seconda È già un po' più difficile Però Con lo scontrucchetto Che La maggior parte di volte Non ti fa cadere Ultima Vabbè Questa si chiama sfiga No, vabbè Ma se cercate Tutti Non ti fuga Se riesce Quindi easy Vai Veloci 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 Oh No, no, no Oddio Oddio No, no, no Non cadere No, no, no È inclinata troppo Oddio Non inclinato troppo Godicchio Dai, andiamo Ok Ok Vabbè Vabbè Sta partita Siamo classificati Sicuro Sicuro Io non voglio portare La seccia Però Ok Ok Qualificate Per forza Vediamo qualche skin Bellino Oddio Cos'è Cos'è Come si chiama Tipo la ciotola Non lo so Come spiegarlo Non so Dove si Vi mettete Di boccorno Qualche volta A casa Oddio Cosa No, no, no Come stava Camminando No, adesso No, adesso Me lo spiegate Come stava Camminando Cioè Cioè È proprio Steso A terra È proprio Steso A terra Stava Good job Il ninja È fighissimo Il ninja Eccolo Bellissimo Però Bracci rossi Sul bianco Il grigio Non so Come Cioè Va Beh Un po' so Cioè Forse ci sta pure Ma Dipende Eh no Per esempio In quel caso Se facevo Il trucchetto Di Tipo Tuffarti Lano E non saltare Tuffarti Non funzionava Troppo Inclinato E qua Ancora In 23 Siamo Ok No Si stanno Qualificando Quasi Tutti Ok Un ninja Chiamiamolo Metani Eh Ma No 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 Prendetelo Se vuole suicidare No Prendetelo Prendetelo Signori Ok Ecco perché Era metà ninja E non ninja Ok Ah no 32 29 Nice Il tempo Il tempo scaduto Oppure no Era Ci dovevamo Qualificare 29 Ok Bah Non lo so Adesso Una squad Penso Hunt Ah Tutti contro tutti Però con La coda Che due coglioni Però Fatemelo dire Fatemelo dire Una palla C'è veramente Una palla È poco stressante Questo gioco C'è Sto min In gioco Se squad È meglio Però squad È più divertente Per esempio Già è più fattibile Vincere squad Che abbiamo Questo È mio È mio È mio Scappa 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 Col pane Alba No 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 Oh mer No 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 Fuggi Fuggi Devo fuggire Devo fuggire Sordi Devo fuggire Dai 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 No 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 Questo dietro di me No 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 Per favore Che Culo Meno male Che culo No no Dove sta No no Sei tu Cosa Non l'ho preso Però se non è meglio Prendere Dove scappi No Devo avere un culo E prenderla proprio Alla fine Andiamo qua Andiamo qua Oh god God Ditti tutti Se la perdo Ho perso Se la perdo L'ho perso Ho perso Se la perdo Ho perso Ho detto tutto Se la perdo Ho perso Più spiegato di così Non lo so Io l'ho detto Se la perdo Ho perso Da dieci secondi Così dai No no Che fosse uno Con la coda Di Da Cinque Quattro Tre Due Uno A quali ci vado Bravo Mamma mia Quattro Quattordici semifinale Squadre Probabilmente Sicuro Sicuro Squadre Sicuro Squadre Sicuro Penso Per forza Oppure No Oppure Come si Semifinale Con la roba Lì Ah no Questa No No Non è Ok Sono zitto È meglio No Qua seguiamo Un poco Chi trova La strada Qua è noto E qua pure è difficile Perché Cioè Basta seguire Quello che trova La strada Ma È qui per forza È qui No 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 E avanti Per forza Dai Vai avanti Oh No È bello Che si Aggra Oh 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 Dai Dove Andiamo Oh 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 Dai Dai Oddio Dai E qui Avanti Per forza Dai No È tutta avanti Sei tutta avanti Non è vero Ma è a sinistra Non a destra Dai Vai Dai Vai Oh Le vado Le vado Le vado Le vado Le vado Grande Lo sapevo Oddio No È caduto Alla fine No No Dico solo una cosa F F Per quello che è caduto là No Mi dispro Ha trovato la strada Ma è caduta alla fine No No Non so se piangere Per lui O ridere Oh Mio dio È caduto alla fine No Ok No vabbè Questo Sono un trucco Che No però Nessuno lo deve fare Nessuno lo deve fare Cioè non so se già l'hanno fatto No No sì L'ho visto su Su youtube Però Dai Nessuno lo deve fare Guarda Allora quante sono nove cose Aspetta Uno Uno Due Tre Quattro Cinque Lo sa pure lui Lo sa Sei Sette Otto E nove Oddio Dobbiamo far cadere Dobbiamo far crollare tutto No no E a te ti taglio proprio la strada E a te ti taglio tutto Ti taglio Ti taglio tutto Ti taglio Ti taglio Ti taglio Mi zera se ti taglio Godo è caduto È caduto È caduto Signore è caduto Signore Signore è caduto La possiamo vincere Dobbiamo Dai Dobbiamo far crollare Andare tutto Dai 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 Già tre eliminati Forse questa la vinciamo Non lo so È che forse Questa la vinciamo Ok forse questa La perdiamo Oddio no 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 Comunque non funziona sempre Ma il trucco è di scendere Scendere tutto E tipo Bucare tutto in mezzo Così tutti cadono giù No è utile come roba Oh Vediamo No è utile come roba Però Se lo fa anche un altro Niente Muori Muori O muore lui Muori tu Comunque muore Cioè è difficilissimo Che la vinci Se la fa pure l'altro Allora facciamoci un'altra Boh Stavolta però vediamo Se ci esce un'altra Cioè Vediamo di andare in finale Prima di tutto Poi vediamo Boh Vediamo Come ho detto nello scorso video No veramente I server sono velocissimi Ci giocano tutti Anche se è feragosto No O è passato feragosto Non lo so Comunque Siamo là E c'è tanta gente pure Vabbè Easy Easy E easy Cioè c'è il 20% Che perdete In questa mappa C'è veramente Cioè se siete bravi A giocare Al 20% Perdete Con il 20% Cioè se perdete Siete O spiegati O scarso Cioè per forza Per forza Minchia Mo perdo Oh Eh vedi come spingono Oh però fa niente Comunque Sto molto più avanti Oh Io qua Sguizzo Velocissimo Guarda qui Guarda qui Guarda qui Guarda qui In mezzo a tutto Sì 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 Così Oddio 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 No 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 che si ho perso La prima volta che qua Sì si ho perso No vabbè no Stacca Stacca Oddio no no Forse ce la faccio Oh forse ce la faccio Attenzione che forse ce la faccio No mi sa che no Mi sa di no però No mi sa di no Oh mi sa di sì Mi sa di sì No vabbè No vabbè No vabbè No vabbè No vabbè No vabbè Come nei vecchi tempi Me ne vado Me ne vado C'è Quarantesimo Mi sono classificato Che culo Che culo Signore Che culo Squadra No no Risto Gara 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 Sicuro gara 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 Mo esce squadro Dico No 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 Gara gara Comunque no Per forza Sì 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 Io lo dico io Gara Per forza E vedi 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 Hacker Sa tutto prima Vedi 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 fratielo No no Comunque a parli scherzi Dersa fila Vabbè Però sta mappa è easy Cioè da fare Oddio No 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 Vabbè moriamo tutti Eh no No come Sono passato lì in mezzo Oddio Qui Se mi butto Ecco qui Ecco qui Oh no no spingete Non spingete madonna Oddio Vabbè qui anche senza buttarmi Oh no qua si forse Oh si No 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 Levatevi 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 Oddio No 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 Come no Ma vedete Stesi vanno Come Adesso me lo dite Oh Mi sono salvato No Vabbè andiamo qui Ok andiamo qui poi Ok Vabbè ma penso che ci qualifichiamo Sicuro Io che vado di qua Stongs No 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 Vieni qui Vieni qui Vieni qui No Papri è la mia Vieni qui L'ho concludo prima io Vieni qui No 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 Cringe 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 No un po' No il ninja No ci sta senza pantalone Però sotto un nero No ci sta No ci sta No ci sta Ci sta attenzione lo chiamavano il ninja scurato attenzione conclude o non conclude no conclude conclude no ho visto il fratello ninja ho visto no no dove dove è? ecco l'ho caduto no si è incastrato nella rete oh nel palo in basso a sinistra oh è caduto dall'altra palo pure quell'altro lì sulla rete no 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 vabbè no qui non puoi perdere qui mi sembrano cioè anche se arrivi ultimo tutti si qualificano proprio tu ti vuoi qualificare non ti devi far prendere dallo slime se non mi sbaglio si perfetto si è questo si 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 noi eravamo 31 si 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 lo dico io questo è possibile qua ci sta il bug? vabbè meglio che non farlo guarda qui guarda qui guarda qui la scelte la scelte la scelte oh no no la stiarda è stato oh 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 attenzione attenzione io sono pro slalom faccio lo slalom vai qui vai qui vai qui oh no vadovi tutti no 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 oh no no non ce l'ho fatta no 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 slime un bimbi apollo slime un bimbi dai no vabbè no eh no è rip 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 per me vabbè però devo dire la verità che sto arrivando un sacco di volte in semifinale però non riesco mai a cioè in finale però non riesco mai a vincere cioè solo una volta ho vinto è veramente difficile cioè sembra facile ma cioè è difficile ma comunque se non siete iscritti iscrivetevi al canale lasciate un like seguitemi su twitch che farò le live lì e che dire cioè nada ci vediamo al prossimo video bella